Buona giornata, siamo a Pomezia, qui siamo al cimitero dove c'è la tomba del mitico regista Sergio Leone, il leggendario produttore cinematografico di tutti i film western più famosi al mondo. Entriamo e andiamo a vedere la sua. Entriamo! Chiudiamo. Ok. Questa dovrebbe essere la tomba di Sergio Leone, vedi c'è? C'era una volta, c'è, ci sarà sempre. 30 aprile del 1989. Venga signor Cameraman. Guarda, riprendi qui Sergio Leone con la sua rettigia. Grazie a tutti.